Buongiorno e benvenuti a un recap ciclico della giornata di oggi su DAX e Fuzzimib. Cosa abbiamo fatto oggi il bello? Innanzitutto abbiamo visto che c'è stata una bella apertura in Gap Town dopo che c'è stato un tentativo di risalita e a quel punto abbiamo visto che con questo minimo si è andati a violare questo minimo qua. Per cui abbiamo avuto non soltanto la condizione minima di chiusura di un T più 1, ovvero un T meno 2 al ribasso, ma anche quella di un T meno 1. E quindi con un T meno 1 al ribasso andiamo a chiudere che cosa? Andiamo a chiudere, abbiamo la condizione per la chiusura, condizione sufficiente, tranquilla, per andarci a chiudere anche un T più 2 mensile. Eccoci qua, un sottociclo di 3 gradi inferiori rispetto al T più 2, ovvero T più 2 meno 3 uguale meno 1, un 4 giorni ribassista, chiude, è la condizione minima per la chiusura di un T più 2 mensile. Non si vede l'ultima candela, quella di oggi, che è arrivata fino a qua, ok, però così è. E quindi abbiamo chiuso, abbiamo la condizione minima per la chiusura del T più 2 mensile. Facciamo poi un'altra considerazione. Io avevo dato, teoricamente per partito, il settimo T meno 3 qui, il settimo giornaliero. Bella discesa, quando è iniziato a risalire ha creato questo swing, alle ore 10 e mezza, poi è iniziato a scendere, poi ci è ritornato sopra, ok, e noi comunque avevamo già messo un primo chip short qua. Ci è venuto contro, però lo stop loss era ben posizionato, non siamo andati in stop loss qua quando ho fatto il massimo a 10.698 e dopo questo massimo non abbiamo più avuto un massimo più alto e siamo andati in divergenza ribassista. Avendo pazienza, seguendo il metodo, avendo quindi la cautela di affidarsi a qualcuno che si sceglie per la propria formazione, che cosa succede? Che se si vende prima di dove dovrebbe essere collocato il nostro stop loss, si perdono dei soldi. Fine. Vince l'emotività, vince il non seguire le regole del metodo e purtroppo, come capita, si va in stop loss. Mentre invece, se non si va in stop loss, perché noi avevamo lo stop più o meno qua, 7.03 se non mi ricordo male, ok, fa anche un 10.698, non ci viene a prendere e poi divergenza ribassista è, boom, discesa. Oltretutto, se conoscete trader analisti che sanno utilizzare il money management, quando iniziano a vedere che c'è questa divergenza, c'è già questa candela rossa e si inizia a vedere che è possibile che questo massimo non venga aggiornato, si mette un bel secondo chip, si mette una seconda entrata short, anche perché eravamo già in death cross, e voilà, abbiamo un prezzo medio che è più in alto per lo short rispetto a quello così basso che ci permetteva di guadagnare poco, quando le candele iniziano a diventare rosse e si va a target, qui siamo arrivati al minimo a 10.587, vi faccio vedere il gruppo premium, cosa diceva, il metodo paga, siamo sul primo supporto, siamo arrivati a 586, questi erano i livelli di algoritmo e di supporto per oggi, 10.586 contro il minimo fatto a 10.587, errore di un tic, l'algoritmo serve? Fare informazione sugli stop dove posizionali con correttezza serve? perché nella realtà dei fatti se c'è qualcuno che dal vivo vi fa vedere questo genere di cose durante un'operazione fatta che può essere dimostrata facendovi vedere determinate cose nella pagina del gruppo premium piuttosto che non è che ci sia molto da raccontarsi, sono fatti, come per tutti gli altri trader. Se oltretutto aggiungiamo livelli, sappiamo dove possiamo rischiarci di arrivare, quando ho visto che il primo livello a 618 che già era gain per noi, era qua, era già gain, ci veniva leggermente contro e poi si ritornava sul 618 e ho detto aspetto, tanto ho tutto questo vantaggio qua di prezzo, chi mi prende? Avevo un take profit già messo sotto il prezzo del mio short e quindi in guadagno. Short, se lo metto sotto, sono già in guadagno, non è uno stop loss, non take profit, sono due cose differenti, purtroppo noto che su TradingView continuano ad esserci persone confuse su questa cosa, qui siamo però sulle basi, se già vedete che uno è confuso sui termini base, lasciatelo perdere, ok? Comunque, siamo scesi poi al secondo livello e quindi siamo andati a fare 10.587 ha un tick da appena iniziato a vedere che non si violava il minimo qua, chiuso il trade, ottimo gain. poi, anche qui, se volete, possiamo andarci a cercare di nuovo divergenze rialziste, ribassista, che ci fanno vedere che si può ancora scendere. Qui a questo punto vediamo che abbiamo una doppia divergenza ribassista, si può continuare a scendere, si può andare qua sotto. Però noi abbiamo già il vantaggio di un altro trade portato a casa, short, corretto, grazie al metodo che non ci fa prendere paura, non ci rende schiavi dell'emotività. Questo è ciò che volevo dimostrarvi e siamo in that cross. Però adesso la condizione minima per la chiusura l'abbiamo fatta, è possibile che domani si vada ancora in eccesso o entro la chiusura, entro 18 minuti, si vada ancora a questo minimo qua. Per cui questo potrà ancora essere considerato un settimo t-3, ma nella realtà dei fatti a noi interessa comunque continuare a guadagnare tutte le volte che si entra senza prendere particolari rischi. Anche perché il terzo t-3 inverso è iniziato qua o è iniziato qua. Quindi a quanto tempo siamo? Nella realtà dei fatti, per ora, mi aspetto che sia qui, orientativamente. Però capite che con un continuo andare su e giù o avete un trader in gamba che sa come farvi operare oppure rischiate di andare a prendere schiaffi in salita e schiaffi in discesa. Se poi fate revenge trading, fantastico. Continuate a farvi male in continuazione, pensate che il mercato ce l'abbia con voi quando in realtà se sapete operare da metodo con due stop loss messi sopra di swing corretti non vi fate male. E anche se il trader temporaneamente vi viene contro, voi lo sapete gestire a livello emotivo. Questo vi pare poco? Io faccio trader che programma in anticipo e non ho paura di quello che faccio perché so già al massimo quanto posso andare a perdere. Quindi sono sereno. Mi guardo il grafico e attendo. Pensavo che saremmo andati, tra l'altro, in stop loss. Probabilmente questa mattina ho detto che aspita, questo vigliacco mi ha fatto così. Mi ha fatto la chiusura a 39 barra di sesto t-3, poi mi ha fatto un raccordo qui perché non posso arrivare come durata fino a qua, fino a 48 barre. Posso arrivare al massimo a 44, ma a 44 qua non c'è nessuna chiusura di niente. Quindi si è chiuso qua al sesto, poi ha fatto uno fantastico raccordo che serve proprio a buttarti addosso un possibile errore e poi, come se niente fosse, è ripartito a farsi il suo probabilmente ottavo t-3 qua dalle 9.45. Nonostante la vigliaccata del raccordo, noi non abbiamo perso soldi e il nostro short ha pagato anche oggi. Per quanto riguarda il Fuzzimib, tutto molto semplice, tutto molto uguale. Anche qui, per ora, non siamo andati sotto il minimo a 17.257, ci siamo molto vicini, 9 tick di differenza. Vediamo, potrebbe andare a chiudere, anche qui fare la condizione minima in questo caso, per la chiusura di un T-1 e poi ripartire, tentare di ripartire di slancio. Tenete però conto che qui, avendo per ora più di un T-3 a rialzo, per ora, laterale rialzista, può partire anche ancora un secondo T-1 proprio da questo minimo e quindi può provare ad aggiornare i massimi invece che andare a chiudere sotto questo, fregando tante persone, però, attenzione, incombe anche qui il death cross. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida serata, per me anche oggi, splendida giornata. Arrivederci a tutti.